e la wifi che si sconnette è un cellulare che magari prende male un access point che non funziona più oppure spesso bisogna riavviare un access point perché magari da qualche problema i dispositivi non si collegano la wifi è lenta quante volte abbiamo sentito dire queste frasi no? non funziona ma riavvialo ma cambia gli canale eccetera eccetera cosa cambia realmente tra un access point professionale e un access point economico? solo la durata nel tempo? no, la risposta è no oggi infatti voglio parlare di Unify cos'è Unify? Unify è un'azienda che produce access point e prodotti radio in generale contrariamente a tutti i dispositivi che siamo abituati ad utilizzare o tipo il link, di link e le varie marche sono gestiti da un unico controller quindi non hanno una pagina web di configurazione quindi non c'è il classico IP 192 bla 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 su cui andare da un browser per configurarlo ma sono dei semplici access point ne ho uno qui così ve lo mostro proprio è questo qua, vedete, è fatto così, sembra un disco volante dietro c'è la possibilità di collegarci un cavo di rete su questa porta qua vedete non ha neanche l'alimentazione perché non ha l'alimentazione? perché si alimenta direttamente dalla POE quindi è Power Over Ethernet se dovete installarlo ad esempio a soffitto non c'è bisogno che portate nel soffitto anche la corrente ma basta solo la rete quindi voi montate tutti i vostri access point che volete vi segnate solo il MAC address in base di montaggio a muro se dovete metterli in una posizione scomoda non facilmente accessibile poi non fate altro che andare a installare un controller ora, se andate nel sito Unify che è questo andate nella sezione Download ve lo mostro nel pratico andate nella sezione Unify prendete un access point adesso prendo un access point a caso e trovate, vedete, il controller sia per Mac che per Windows si trova in realtà anche per Linux io l'ho installato qui su Ubuntu per farvelo vedere infatti ti vi verrà chiesto un nome utente e password di amministratore per accedere al controller se volete già creare una rete Wi-Fi quindi vi chiederà SCD e password e se volete assoggiare eventuali dispositivi che lui già trova in rete quindi, semplicissimo setup che non vi sto a far vedere fate sempre avanti vi ritrovate con l'installazione eseguita ad installazione eseguita basta che andate sul vostro browser digitate HTTPS2.localhost.8443 questa è la porta su cui c'è il nostro controller in questo caso io l'ho installato in questo computer quindi faccio localhost e se avessi avuto un controller esterno perché Unify potete anche acquistare un controller direttamente dalla Unify ve lo manda già preconfigurato quindi non fate altro che collegarlo in rete e andare nel suo indirizzo IP 2.8443 ok, mettiamo le credenziali che abbiamo scelto per l'appunto durante il wizard e facciamo il login mi rileva i vari dispositivi Unify attenzione, solo Unify presenti in rete in questo caso mi ha rilevato vedete già un access point è rosso perché non è configurato con questo controller perché Unify va un po' fuori dallo standard di access point come vi dicevo prima ogni access point che acquistiamo standard ha una sua interfaccia di configurazione e una sua nuova utente password e una sua rete wifi con una sua password qui invece in realtà è il controller che gestisce tutta la rete e siete poi voi andare a associare i vari dispositivi wifi che avete in giro i vari access point a questo controller per cui, esempio pratico cambiate la password qui su questo controller alla wifi, automaticamente tutti i dispositivi agganciati a questo controller cambieranno il password immaginiamo una situazione anche un po' magari complicata un centro commerciale immaginiamo di essere in un centro commerciale immaginate quanti access point ci sono figuratevi se io dovessi gestire tutti quegli access point un giorno mi chiama il gestore del locale e mi dice voglio cambiare password wifi ok, che dovrei fare nel caso di access point consumer? loggarmi uno a uno nell'interfaccia web e cambiare la password qui la cambierai solo da questo controller idem per gli aggiornamenti questo controller si occuperà di fare gli aggiornamenti di tutti i dispositivi a lui collegati e senza fare nulla essenzialmente ok, una volta proceduta proceduta l'installazione vi trovate di fronte a questa interfaccia da qui la prima cosa da fare è associare i vari dispositivi a questo controller quindi andiamo in device ora vedete io ne ho diversi lì vedete disconnessi e mi segna sotto manage it by other che significa che io ho già il mio controller a casa in cui ho questi access point configurati quindi lui mi dice guarda attento perché questi dispositivi sono già gestiti da altri da un altro controller immaginiamo che invece non sia così quindi non ci sia la scritta manage it by other basta cliccare su un controller compare il tasto qui sopra vicino a dove io ho disconnected adopt quindi cliccate adopt e lui lo adotta in configurazione vi potete dare un nome quindi per riconoscerlo facilmente io ad esempio questo l'ho chiamato piano terra in modo che so che è il piano terra ecco perché vi dicevo prima di montarli in posti magari scomodi segnatevi il mac address perché andate a rinominarli in base al mac address così avete un'idea chiara di come sono di come configurarli di quali sono in modo da potergli dare anche un nome configurato quindi il nome possiamo decidere se il led deve rimanere acceso se è un dispositivo che andrà installato poi all'esterno e varie informazioni ora non vi sto a annoiare sulle varie configurazioni perché vi ci divertite un po' è molto molto semplice è facilmente intuitibile se voi andate per esempio su un network vi dice se il dispositivo deve rimanere in DHCP o se deve avere un IP statico il tipo di banda preferita eccetera eccetera ecco non vi ho detto una cosa in fase di installazione vi verrà chiesto quando create la rete wifi se volete combinare la rete a 2,4 giga con quella a 5 giga se fate questa opzione vedrete un'unica rete ok che funzionerà sia per i dispositivi dispositivi che supportano la rete a 2,4 giga che la rete a 5 giga quindi se il vostro cellulare il vostro smartphone ad esempio supporta la rete a 5 giga automaticamente si collegherà alla rete a 5 giga se invece non la supporta si collegherà tranquillamente alla 2,4 giga attenti perché qualche dispositivo magari non proprio recente o aggiornato o con firmware aggiornati potrebbe dare un po' di noia quindi se vedete che un dispositivo non vi rileva la wifi o ha difficoltà a collegarsi separate le due reti da 2,4 giga e la rete da 5 giga in modo da poter scegliere manualmente in questi vecchi dispositivi magari datati computer vecchi eccetera la rete a 2,4 giga detto questo quindi una volta adottati i vari dispositivi che lui troverà possiamo andare a configurare la nostra wifi quindi andiamo in impostazioni ok e qui andiamo a su wireless network vedete io avevo fatto delle wifi demo quindi praticamente posso creare fino a 4 per WLAN ok quindi posso andare a creare una nuova rete la chiamo Pippo la rete Pippo ha la sua password e lui praticamente vi andrà aggiungere questa wifi quindi da qui posso andare a specificare il nome della rete se deve essere visibile se utilizza una WLAN se non avete visto il video riguardante le WLAN ve lo lascio qui sopra praticamente potreste assegnare questo access point a una determinata WLAN così senza passare cavi aggiuntivi potete già simulare diciamo una wifi su una WLAN specifica virtuale diciamo detto questo una volta create tutte le mie reti sono già praticamente operativo lui si occuperà di associare a tutti i dispositivi che abbiamo collegato in precedenza queste impostazioni qui nel pannello trovate varie statistiche trovate una mappa potete caricare un file immagine della magari una piantina del locale e praticamente in questa piantina potete andare a mettere dentro i vari access point che avete e vi fa tipo un grafico della copertura wifi quindi vi fate un'idea di qual è la copertura wifi su client vedete la lista dei client connessi ora ovviamente erano client connessi in questo controller su insight avete una lista di client connessi con dettagli un po' più specifici quindi magari il p che gli è stato assegnato il mac address e varie con funzionalità penso di avervi detto tutto per questo video è tutto se avete domande dubbi o vi interessa saperne di più scrivetelo nei commenti mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale è gratis non si paga nulla e attivate la campanella altrimenti non sapete quando escono nuovi video ci vediamo alla prossima ciao ciao